Formare futuri manager in grado di ridisegnare l'infrastruttura e la logistica del porto di Ancona, pronto a diventare un mega hub green, in grado di accogliere maxi navi ibride ed elettriche e di produrre energia pulita come una grande comunità energetica portuale. È l'obiettivo del nuovo corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Energetiche e della Logistica in Ambito Portuale, lanciato dall'Università Politecnica delle Marche e presentato nella sede dell'autorità portuale. Un corso unico in Italia che punta a fornire ai professionisti di domani competenze trasversali a cavallo tra l'ingegneria navale, quella civile, meccanica, informatica ed elettronica per progettare i nuovi impianti e infrastrutture portuali. Gli sbocchi possono essere, noi li abbiamo pensati in due settori, uno come energy manager in ambito portuale quindi vuol dire sia un supporto fattivo alle aziende che operano nel settore ma anche agli enti come in questo caso l'autorità portuale che dovrà fornire energia elettrica e poi le abbiamo prese come responsabili di settore invece in aziende quindi abbiamo creato due strade. Così l'Ateneo Dorico punta a dare una risposta alle esigenze del territorio perché mentre il porto guarda al futuro pensa già alle figure da poter reclutare il tutto aspettando la svolta green grazie all'elettrificazione delle banchine che consentirà alle navi e ai traghetti di poter spegnere i motori in porto e poter essere alimentati da terra. Il porto sta lavorando in questa direzione quindi una elettrificazione delle banchine banchine sempre più efficienti, più lunghe e più capienti per avere più navi contemporaneamente presenti e per essere competitivi sia per dare un servizio al territorio ma anche per dare una risposta al mondo marittimo.